Ciao a tutti ragazzi, io sono Zan e oggi sono qui con un altro video su Younger Games per SP Questa volta sono sul server numero 10 Come vedete c'è un gran casino perchè lo spawn era al centro di questo lago da cui è impossibile uscire Beh, noi ce li metteremo a stare fermi Allora, scegliamo il kit, Barbary, come al solito Che ricordo da una spada in pietra e la bussola come tutti gli altri kit E ho scoperto che il mondo è migliore per andare avanti e fare un'alleanza con qualcuno E allora C'è Qualcuno Che fa No, aspetta C'è qualcuno italiano, meglio Che fa Alleanza Ora aspettiamo la risposta, intanto mancano due minuti e via Mi sa che non c'è nessuno che risponde Chiamolo di nuovo C'è Sì sto cazzo Ah, siamo a posto Allora A parte il bellissimo intervento di quello lì Eh C'è qualcuno Ita Che Fa Alleanza Mancano ancora due minuti Boh Chissà perché Tu sei un fa Un fa per coglione Bene Almeno c'è qualcuno italiano Vabbè Aspettiamo Mi sa che non risponde nessuno Manca un minuto, bene Vabbè Bene mica tanto Visto che non ho trovato nessuno con quelle armi Proviamo a vedere se c'è qualcuno anche Anche Di qualunque lingua Forse Così mi potrebbe rispondere più gente Vediamo Ancora un minuto Questo Questo tempo non è che ha molto senso Visto che Deve volte si impalla E non continua più E non va più avanti Mi sa che Taglierò un po' di questo Di questa parte Perché Perché Sono cinque minuti in più Bene Sta per partire Mi sa che rimarrò da solo Quindi Non durerà molto Sì Questo è ovvio 30 secondi Massimo Mi allerò Con qualcuno Durante il gioco 20 secondi Merci Lettere sparata a casata 10 secondi 10 secondi 2 secondi 1 secondi 2 secondi 2 secondi Si parte Ebbene non sono caduto nel lago Disperdiamoci nella foresta Anzi Anzi no Prima prendiamo dalla legna Mi laggo un casino Forse non dovrei registrare con fraps Ma È lo stesso Mi va abbastanza bene Quindi Ma Mi fottono la legna C'è che farei meglio Allontanarmi Prima Con questo lag È ancora più sicuro Che morirò Ben Cinque pezzi Dovrebbero bastare Ora andiamo in giro A cercare cibo Minuto Questi non so se Oh guarda Quello è italiano Lupo Vediamo se è scritto qualcosa No Qualcuno che sbaglia a scrivere lag Allora vediamo 50 secondi Non ho ancora trovato cibo C'è della gente qua sotto Mi sa Che mi dovrei allontanare Ancora un po' Spero di non arrivare Al limite della mappa Come mi è successo Poco tempo fa Che naturalmente Sono arrivato terzo Cioè naturalmente Sono stato molto fortunato A trovare un italiano Che si alleasse Che si alleasse con me Infatti lui è arrivato quarto Io terzo Ti ha ucciso un bastardo Che ci aveva Aveva preso Tutte le robe in diamanti E anche da Che danno lo spawn A buon punto della partita Bene 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 No lag troppo lag troppo Sì La prima vittima Pozione di Invisibilità Sì che figo Carne 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 Mi sa che dovrei fare Legna Zio pane Zio pane Zio pane Dovrò farmi Un buco da qualche parte Assolutamente La C'è La Chiudiamo Speriamo Si ricrei in fretta L'erba Dai 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 Veloci 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 Prima che si scopre qualcuno Grating table Piccone in legno Scendiamo Bene Vi dico subito che non rimarrò Neanche per mezzo secondo a minare A parte qui all'inizio per farmi Giusto per craftarmi una fornace E poter sopravvivere Ecco mi faccio Un piccone se mai servirà Naturalmente se trovo Nel ferro all'aperto lo prendo Poi Faccio un'altra spada E questi tre bastoni li tengo Se mi dovrò fare un altro Un arco Allora vediamo cosa In questo Cuociamo Un po' Il pollo E poi tre costolette Buona Allora sostituiamo tutto Questo Lo teniamo qua Questo via Questo mi potrebbe servire Intanto prendiamo la crafting Vediamo da che parte è il più vicino Cool Cool Craft Non lo vedo È di qua No Un altro Mi sa che sono insieme Perché è un po' impossibile Che siano così vicini Due avversari Allora ho manco di lavoro Tengo qui la portata di mano Bene Adesso posso spaccare la fornace Ecco Con sto rette E Prendiamoci la fornace Mettiamo la portata di mano Portata di mano Mangiamo il pollo E l'altra che era in portata di mano Poi Dobbiamo tornare su Speriamo non ci sia qualcuno da aspettarci Allora vediamo Andiamo ad attaccare questo Cool Craft Speriamo non sia così fortunato Visto che ce l'ho Io userei questa pozione di invisibilità Sì ma dai Usiamola Mettiamo io un po' di roba Ecco Giusto per farmi spazio Di là C'è il fantasma Mi sa che è in miniera Mi sa proprio tanto che è in miniera Uh Leguinomi Leguinomi Sono tutti e due lì Alleati Ah è vero sono invisibile Cool Craft E là c'è l'altro Mi sa che mi ha visto Mi ha visto nessuno E state zitti Mi raccomando Bene uno è morto Sono un mito Sì vai Siamo dei grandi Siamo dei grandi Siamo dei grandi Calmi 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 Spade in ferro Mi piace mi piace Altro ferro Sono ancora invisibile Sì questo mi piace ancora di più Sì sì queste cose mi piacciono molto Uh 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 Questa mi servirà Appena tornerò Visibile Bistecche mi serviranno Fornaci Ce ne prendiamo una C'è già C'è qualcosa dentro No Via Prendiamo fornaci Veniamo invisibili per sicurezza Quanto a un minuto Dai 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 Noi ci prendiamo il carbone Vi faccio gli stivali Sì gli stivali Dai 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 Sì sì sta andando molto bene Questo Hunger Games Anche se Subito Non sono accettato Di allearsi Ma sta andando molto bene Via Prendiamo tutto E scappiamo Via i funghi Via Le spade vecchie Sono a posto No la bussola mi servirà La bussola La bussola La bussola serve sempre Quanto ho ancora? 17 secondi 10 del ferro Me lo chiapperei 3 pezzi Non me ne faccio niente Vediamo se ce n'è altro Qui Eccolo Eccolo Diciamo Esplode il creeper Tanto Non ce ne fotte niente A noi Se la mappa Sarà di mezza distrutta Mi sa che sono tornato visibile Però Qua ho già l'armatura Da mettermi E ho trovato Altro ferro Bene Molto bene Molto bene Sta andando meglio Del previsto E visto che ho detto questo Sicuramente arriverà Qualcuno dietro E mi ucciderà Sono visibile? Sì Allora mettiamoci questo E questo Vediamo La bussola dove mi indica Altro ferro Che culo Che culo Che culo Indica di là No no Ho detto che non andrò a minare Non andrò a minare Mettiamo via questo Sempre di là Non vedo il nome Non vedo il nome Questo mi piace Mi piace molto Speriamo non sia In cammino Ora mi mancano Gli stivali e il casco Mi farò Il casco 5 Sì Mi faccio tutti e due E poi mi rimane del ferro Bene Grande Grande Qua ho un pezzo di ghiaia La farmo Finché non diventa Selce Così mi faccio pure un accendino Siamo tutti felici e contenti Tranne quelli che incontrerò Mi sa che è truccata Ecco Selce bene Molto bene Uh Questo mi piace Mi piace Torno di là Crafter No mi sa che mi Appoggio questa Più comodo Crafteriamoci L'elmo Via Elmo Qua Uno di ferro Ci facciamo l'accendino Ma sì Dai Tanto tutto E No Non ci credo Ah no Questi è vero Bene Molto bene Questo mi piace Mappa Mappa Boh Vabbè Tanto non sono capace A usarli quindi Allora 5 6 7 L'altro Cosa me ne faccio Lo lascio qui tanto Dai 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 Sei Ne manca uno Adesso siamo rimasti 31 Perfetto Ora lo so Bene Stivali E Sì Sì Stivali